Oggi, mercoledì 21, riunione straordinaria, riunione d'urgenza della Lega Serie A, perché bisogna discutere di tante cose, ma si presenteranno due grandi novità, due grandi novità che potranno stravolgere la Serie A dalla stagione 23-24. E ragazzi, vi dico la verità, a me di queste due novità, la prima non dispiace, andiamo a vedere che cos'è. AC Milan, forza, lotta, vincerai, non ti lasceremo mai, non ti lasceremo mai, di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi, non vi lasceremo mai, non vi lasceremo mai, AC Milan, forza, lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Buongiorno, fratelli rossonieri, sempre a spasso per l'Italia, perché non sono tornato ancora a Milano, ma oggi qui a Crotone io me ne vado in giro con questa maglia qua del nostro Milan. Oggi me ne vado in giro così a Crotone, vedete? Il mio Milan ce l'ho sempre sulla pelle. Vi ricordo, iscrizione al canale, like, commento, campanellina, se volete condividete il video, tanto è gratuito, non costa nulla. Vi voglio andare a raccontare i due punti fondamentali che oggi in riunione della Lega Serie A si parlerà di questo possibile stravolgimento dalla stagione 23-24. E ragazzi, non è clamoroso, perché comunque c'era da aspettarselo, nel senso c'era da aspettarselo, anche perché a me piace, questa idea piace. Si sta parlando, si sta confabulando, si sta proponendo di scendere da 20 squadre in Serie A a 18. E questa, ragazzi, secondo me non è un'idea malvagia. A me piace tantissimo. Perché? Perché si alzerebbe il gap, ci sarebbe più divertimento, ci sarebbe una bagarre incredibile tra chi deve vincere, chi deve andare, più che altro in Champions League, e chi deve retrocedere. Si andrebbero ad eliminare, tra parentesi, quelle squadre cuscinetto, no? Quelle squadre, diciamo, meno forti e ci sarebbe più competitività. Competitività. Come cazzo si dice? Competitività. Mi sono allappato con la bocca. Secondo me, ragazzi, non è un'idea malvagia. Non è un'idea malvagia. Oggi si parlerà di questa cosa qua. Comunque, se si farà, si parla comunque della stagione 23-24. Ma, ma, e questa qua invece, a me, non è che mi fa impazzire questa idea. Si vogliono portare i play-off e i play-out. E qua non ci ho capito la mazza, perché non ho ancora capito se questi play-off sarebbe per chi vince il campionato, cioè prendi le prime squadre in classifica e fai i play-off per vincere il campionato, oppure si fanno i play-off per chi andrà in Champions League, cioè la prima vince il campionato e poi dalla seconda in poi si fanno i play-off per chi andrà in Champions League. Io questa cosa ancora non l'ho capita. Non è chiara, non è chiara. E poi si vogliono inserire i play-out, cioè per chi retrocede anche là. A me questa cosa dei play-off e play-out non mi fa impazzire. Siamo d'accordo? È tutta una questione economica, giusto? Si fa solo ed esclusivamente per una questione economica. Secondo me è così, perché è vero che ci sarebbero meno partite, perché tu da 20 squadre passi 18, però avrebbero molto più appetito, sarebbero più appetibili. Voi immaginatevi di vedere i play-off dove ci sarebbero dentro Milan, Juve, Roma, Lazio, Atalanta. Sarebbe molto più appetibile, farebbero molte più visualizzazioni in televisione, ci sarebbero più spettatori. Secondo me si sta facendo molto, molto, molto per una questione economica, anche per la questione play-out. Comunque ci sarebbero molte, molte, molte più, molto più interessi a vedere la partita. Però ragazzi, non è ancora detto nulla, si vuole proporre questa cosa, ve lo ripeto, a me piace molto l'idea di scendere a 18 squadre, perché sarebbe molto più competitivo, ma non mi fa impazzire il fatto dei play-off e play-out. Non siamo nel basket, non siamo nell'NBA e calcio. Io lascerei tutto così, come parlavamo del discorso, delle nuove regole che si volevano inserire nel video precedente, quando si parlava dei 30 minuti effettivi al posto di 45, delle rimesse laterali con i piedi, del portiere che prende palla al piede e può andare su senza passarla o senza rinviarla. Sono regole che secondo me nel calcio non stanno bene, non si sposano, però il fatto di scendere a 18, ragazzi, creerebbe molta, molta competitività, non riesco a dirlo stamattina. Scappo, mi raccomando, iscrizione al canale, fatemi sapere cosa ne pensate sotto qua nel video, se siete d'accordo della riduzione delle squadre, se siete d'accordo dei play-off, se siete d'accordo dei play-out, se siete d'accordo con tutto quello che ho detto, se non siete d'accordo, mandatemi pure a cagare sotto nei commenti. Ciao ragazzi! Ciao!